14 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ora l'UE rinnova l'accordo di associazione con il Cile. È un paese amico con il quale abbiamo sempre condiviso le radici culturali perché è il partner commerciale più vecchio che abbiamo in America Latina. Il rinnovo dell'accordo significa rafforzare il ruolo dell'UE quale partner chiave nell'America Latina. Proprio ora, quando la leadership mondiale degli USA è sempre più incerta, quando altri paesi come la Cina si stanno espandendo con sempre più influenza nella regione. Ci sono dei punti cruciali, i diritti dell'uomo e la protezione dei popoli indigeni. Sono in letto di vedere che entrambi sono affrontati nella relazione. Quindi dobbiamo sollecitare il Cile a risolvere il problema del popolo, della terra, il Mapuche. Gli unici a essere sopravvissuti alla colonizzazione europea. Le sue selve sono state occupate in modo arbitrario dal governo cileno che applica una legge antiterrorismo che risale all'epoca di Pinochet. Spero che l'accordo venga rinnovato su queste basi per dare una mano amica a questo paese che è amico, con rapporti equilibrati che porteranno a effetti tangibili per i cittadini su entrambe le sponde dell'oceano. Noi difendiamo i Mapuche e la loro libertà.